ispettore sicurezza costinate come ce la stanno facendo ce la stanno facendo sta tornando una piastra pulita bravi ragazzi continuate così che la multa magari ve la leggeriamo allora qua non va per niente bene allora poi c'è una macchia d'olio e qua un centinaio di euro di multa la facciamo poi guarda qua guarda qua che bordello guarda qua che bordello guardate nel forno spelto guarda un devasto me ne vado bene è ritornato rispetto alle sicurezza io vedo che è tutto a norma è tutto a norma e perciò niente il mio lavoro è finito ma torneremo quando meno ve lo aspettate noi saremo qua siete come la sia e voi dirlo bene quando i nostri calcoli questo razzo dovrebbe su raggiungere la velocità supersonica entro tre metri dalla partenza vero ingegnere avete capito no questo è un buchetto questa cosa verrà sbattuta dal nostro operaio specializzato abbiamo fatto anche delle modifiche all'innesco che ho preso un intero tubetto di mentos perfetto perfetto mi dice ingegnere e non si può fare morirà sicuramente presto vado ad innescare tutto è tornato l'ispettore sicurezza l'ispettore sicurezza siamo sicurissimi qua sopra come vedi si può stare tranquilli c'è un chopper perdoni ti che c'ho il chopper dove c*****o è capota è capota guarda è capota sbocco 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 non è la posta sono il sostituto dell'assessorale scurezza è tutto regolare tranquilli scurezza no 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 no